Musica Messa in vendita la villa dove nel 2007 vennero massacrati i coniugi Pellicciardi a Gorgo al Monticano il figlio Daniele Spera sia preservata, la memoria dei genitori sarebbe bello diventasse una casa per le persone in difficoltà. Dopo la mega rissa di ieri in stazione a Lancenigo di Villorba, sindaco e presidi del polo scolastico, incontreranno i giovani responsabili, non si escludono lavori utili a scuola. E' stato incastrato dai filmati delle telecamere di videosorveglianza il 43enne veneziano che dieci giorni fa si era intrufolato nella canonica di Motta di Livenza rubando un computer. Cresce il numero delle famiglie in crisi a causa di rincari energetici, compreso il carburante per l'auto. Da Savno l'iniziativa di mettere a disposizione i propri distributori di biometano. Bolletta alle stelle, inflazione record, il sindaco di Treviso Mario Conte è preoccupato, rischiamo una forte crisi sociale. A settembre il governo intervenga. I delegati dell'Associazione Nazionale Alpini riuniti a Piacenza per l'Assemblea annuale hanno riconfermato per altri tre anni il trevigiano Sebastiano Favero alla guida delle penne nere. Inaugurato in mattinata nel quartiere trevigiano del Sacro Cuore, il Sagrato della Chiesa è riqualificato grazie all'accordo tra Comune e ATS. Ora, dice il parroco Don Giovanni, non è più un parcheggio. Ben trovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano per questa edizione trevigiana dei nostri telegiornali, il clamore suscitato dalla notizia della messa in vendita della Villa dell'Orrore, dove nel 2007 si consumò il massacro dei coniugi Pellicciardi. Ci sono le parole molto toccanti, significative del figlio Daniele. Spero che quella villa diventi un luogo di solidarietà per aiutare le famiglie, le persone in difficoltà. Sentiamolo. La mia idea, la mia speranza è quello che qualcuno la prende, la trasformi e la trasformi e la possa trasformare in qualcosa di bello, insomma, che qualcosa che è un ricordo brutto possa diventare una cosa bella, nel senso, che ne so io, una casa a favore di chi ha bisogno, di persone bisognose, di congregazioni, di associazioni benefiche. Questa è la mia idea. Trasformare la Villa degli Orrori in qualcosa di diverso, restituendo anima un luogo privato di ogni umanità. Questo l'auspicio di Daniele Pellicciardi ha presa la notizia che la famiglia Durante ha messo in vendita l'abitazione dove i suoi genitori, Guido e Lucia, vennero massacrati nella notte tra il 20 e il 21 agosto del 2007. Moglie e marito abitavano nella dependanza e del complesso erano i custodi. Si tratta senza dubbio della pagina più sanguinosa nella storia criminale della marca. Le belve di Gorgo, così sono stati poi ribattezzati gli autori, erano penetrati nella casa dei Pellicciardi per ottenere le chiavi della villa, visto che i Durante erano in vacanza. Nei loro confronti non fu usata nessuna pietà, una violenza inaudita, sevizi indicibili. Per quei fatti, i tre componenti della banda vennero arrestati dopo poche settimane. Uno di loro si suicidò in carcere, mentre un quarto uomo non è mai stato identificato. Chiaro che la notizia della vendita dell'immobile, datato 1967 per 462 metri quadrati, non si è passata inosservata. Definita lussuosa villa datata, ancorché in buone condizioni, è ora sul mercato. È un fardello un po' pesante, nel senso che io penso anche chi la compra o conosce la storia di quella casa oppure non la conosce, nel senso che se non la conosce è una casa come un'altra. Se uno ha idea di cosa sia successo dentro su quella di Pantans, ci fa un pensierino. Insomma, per Pelicciardi è difficile considerarlo un luogo come tanti altri, pur riconoscendo alla proprietà il diritto di venderlo. Da qui appunto l'auspicio che istituzioni, associazioni, privato sociale si facciano avanti anche per preservare la memoria dei genitori vittime della ferocia. Una casa dove poter mettere delle persone che hanno bisogno, delle persone da recuperare in qualsiasi modo, insomma, appunto cancellare questo ricordo brutto in una cosa bella. Ritorniamo ai fatti di Lancenigo, la mega rissa che è scoppiata ieri mattina in stazione. Protagonisti diversi ragazzi di 16-17 anni in settimana. Questa è la speranza del sindaco, meglio l'obiettivo è di incontrare questi giovani e farlo con i dirigenti scolastici. In settimana avremo un incontro, spero ci siano anche i ragazzi coinvolti. Visto che rischiano appunto una denuncia per rissa e come sappiamo una denuncia per rissa va da sei mesi ai due anni, meglio fermare subito questo fenomeno. Quindi la mia disponibilità, la disponibilità dei dirigenti del campus a chiarire e a parlare c'è insomma. Un incontro allargato per capire le cause e prendere gli opportuni provvedimenti è quello che il sindaco di Villorba, Francesco Soligo, accanto ai dirigenti scolastici del campus di Lancenigo intende avere in settimana con i ragazzi responsabili della maxi rissa esplosa in stazione sabato mattina. Calci e pugni preceduti da un appuntamento via social, 12 ragazzi coinvolti, 9 quelli identificati in poche ore, tutti teenager. È un fatto grave, spero siano ragazzate ma secondo me dobbiamo preoccuparci. Sul tavolo nessuna ramanzina assicura il primo cittadino, piuttosto azioni concrete che però non possono prescindere dal supporto delle famiglie di origine. Magari dare una mano all'interno del campus scolastico, visto che magari ci saranno anche dei lavoretti da fare. Tengo a precisare che il punto cardine è proprio la famiglia. Se poi la famiglia per una sospensione scolastica si rivolge al proprio avvocato vuol dire che non ci siamo. Bisogna lavorare anche sulle famiglie. Di un fenomeno dilagante e figlio in parte di un disagio esacerbato dalla pandemia parla il collega Dispresiano. C'è un substrato di ragazzini che probabilmente sono liberi e non vengono controllati da nessuno che si permettono di fare queste cose di fatto disonorando il nome dei territori in cui fanno queste scolibande. Ma questa cosa qua sta parecchio antipatica. Proprio il comune di Dispresiano accanto a quelli di San Polo, Povegliano e Ponzano è pronto a lanciare Zag, zona di attivazione giovanile, un nuovo spazio individuato al piano terra della biblioteca comunale. La mia idea è quella che adesso abbiamo appunto degli educatori, abbiamo delle attività come per dire il DJ set, piuttosto che lo skateboard, piuttosto che il parkour, quindi cose che piacciono ai giovani e che permettono di controllarli anche. Sempre per la cronaca, lo scorso 20 maggio era riuscito a entrare approfittando di una finestra semi aperta all'interno della canonica della parrocchia di Motta di Livenza. Aveva trafugato un computer portatile, qualche spicciolo, per un bottino non elevato. Nelle scorse ore i carabinieri della stazione proprio di Motta sono riusciti finalmente a identificare il responsabile del furto. Si tratta di un 43enne di origini veneziane senza fissa dimora, con a carico precedenti per delitti contro il patrimonio. Per l'uomo è scattata inevitabile una denuncia alla procura della Repubblica di Treviso. Ripreso dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, l'uomo è stato riconosciuto dai militari che hanno eseguito il sopralluogo il giorno del furto. Voltiamo pagina dalla cronaca all'attualità, perché sono in costante aumento. Lo vediamo tutti i giorni, i costi per il caro Bolletta. Ma c'è chi sta correndo ai ripari e propone soluzioni anche innovative, come Savno, che è pronta ad aprire i propri distributori di biometano agli automobilisti, soprattutto alle famiglie in difficoltà. Una delle funzioni della Savno è quella di aiutare il sociale. Abbiamo aiutato nelle bollette i cedeni più deboli con reddito ISEE, quindi siamo disponibili anche perché ce l'abbiamo a metano. Biometano per le famiglie in difficoltà. È il nuovo progetto di Savno dedicato a chi ha comprato l'auto a gas naturale per risparmiare ed ora si trova che un pieno costa quasi quanto quello della benzina. L'ennesimo effetto del rincaro dell'energia che sta mettendo in ginocchio molte famiglie anche nella sinistra piave. Da qui l'idea di Savno di mettere a disposizione i propri distributori attualmente utilizzati per i mezzi aziendali. Un'operazione semplice, come ci fa vedere il Presidente, che poi sottolinea. Presidente, non è difficile far metano con Savno? L'ha visto lei, quindi ci vuole pochissimo. Ecco, quello che sta pensando è di darlo, diciamo così, anche ai cittadini per quanto possibile. Ma è prodotto dalla collettività, è giusto che vada anche a favore della collettività. Il metano non sarà completamente gratis, ma il costo coprirà solamente le spese di produzione del biogas. A voi quanto costa? 45 centesimi? 0,45 centesimi al metro al cubo. Beh, insomma, è una bella differenza rispetto ad adesso. Beh, certo, costa quasi due. In certi posti ho visto due 196 qui vicino. Il Presidente non nasconde le difficoltà per rendere concreto il progetto, a partire dall'accesso dedicato ai cittadini a Oderzo, come qui a Vittorio Veneto. La strada d'accesso è che abbiamo già chiesto il Comune perché ce lo dia e dovrebbero decidere fra poco. È un pezzottino, non è che ci sia tanto. Devono solo fare un po' di spazio qui nel Parco Dan, ma l'entrata sarebbe facilissima. E poi abbiamo bisogno anche delle autorizzazioni ministeriali, perché ancora non ci hanno mica dato l'ok per darglielo ai cittadini o alle macchine di attrazione. Possiamo usare solo quello per i nostri camion. Per questo il progetto Savno è il primo in Italia a sostegno delle famiglie in difficoltà e di conseguenza apri pista per autorizzazioni anche per molte altre partecipate, come ad esempio Contarino Eitra, che dai rifiuti pubblici ricavano biogas. Per i nostri camion e per le macchine aziendali ci sono tutte. E anche per quelli dei comuni che vogliono venire a far metano, quello ci sono. Quello siamo autorizzati a dare. Stiamo vedendo di allargare il bacino. Senta, quanto metano produce Savno in questo momento? Savno, io sto parlando del gruppo, perché facciamo parte del gruppo Sesa Bioman, e siamo oltre i 120 milioni di metri cubi di metano, di biometano, che vale molto e è molto migliore di quello naturale. Vedremo quindi com'è andrà a finire questa partita. Intanto c'è un forte, fortissimo allarme sociale, soprattutto guardando all'autunno. lancia l'ennesimo autauta al governo il presidente di Anciveneto e il sindaco di Treviso, Mario Conte. Noi abbiamo scritto innumerevoli lettere, però gli aiuti che sono arrivati agli enti locali, alle famiglie, sono assolutamente insufficienti. È fondamentale agire tempestivamente, perché siamo molto preoccupati per quello che può succedere a settembre. Prevediamo una crisi sociale che rischia di travolgere davvero tutti. Le settimane passano, la guerra in Ucraina prosegue, gli indicatori di una situazione economica sempre più complessa si moltiplicano e con essi la richiesta da parte di forze politiche e civili di provvedimenti drastici e di lungo respiro da parte del governo per cercare di sventare o quantomeno di contenere gli effetti economici e sociali degli aumenti indiscriminati. È un periodo che doveva essere quello del rilancio, invece rischiamo di vedere un rallentamento forte che mette soprattutto in ginocchio per l'ennesima volta le famiglie. Questo noi non possiamo permettercelo e non vogliamo subirlo e quindi chiediamo davvero fortemente al governo di intervenire. Nel frattempo le amministrazioni locali si stanno anche attrezzando con comunità energetiche, però le tempistiche sono quelle che prevedono la progettazione e la realizzazione e quindi ci vorranno degli anni. È fondamentale che il governo intervenga oggi per evitare una crisi sociale dei prossimi mesi. Parla da sindaco di Treviso e da presidente Veneto dell'Anci, Conte, senza mascherare le forti preoccupazioni che nutre da amministratore in vista di un inverno in cui si ipotizzano costi energetici alle stelle e risorse razionate e in cui si profila anche l'aggravamento di un problema come quello dell'inquinamento dell'aria. Rischiamo un inverno davvero complicato da un punto di vista economico ma anche da un punto di vista ambientale perché tutti coloro che non accenderanno le caldaie perché il gas costa troppo ed è evidente, c'è anche una speculazione clamorosa, si scalderanno con strumenti alternativi, con vecchie stuffe, con caminetti, con pellet e quindi peggiorerà molto anche la qualità dell'aria. È un tema molto delicato che va affrontato subito perché settembre è troppo tardi. Caro bolletta quindi, ma anche caro spesa, inflazione, carenza di materie prime. Proprio quest'ultimo elemento sta impensierendo molti amministratori trevigiani, tanti imprenditori. La stessa ULS, due marca trevigiana, sta riaggiornando i tempi per il cantiere della nuova cittadella della salute. Il problema vero l'abbiamo con le tecnologie, nel senso con risonanze e TAC, cioè le grandi macchine che anche queste soffrono più il problema non solo dell'aumento di costi ma soprattutto del ritrovare le cosiddette materie prime, quindi i microchip e queste cose qua. Noi speriamo che entro l'anno comunque di riuscire a portare a casa anche le grandi macchine. Il cantiere per la nuova cittadella della salute procede appena un regime ma risente inevitabilmente delle variabili impazzite del mercato. Per questo l'ULS2 riaggiorna, seppur di poco, i tempi di inaugurazione del polo sanitario annunciato inizialmente per settembre. Un distingo però è d'obbligo. Se mettiamo le grandi macchine, credo a fine anno. Se anticipiamo il resto, perché il resto sarà pronto, credo che a ottobre noi potremo tranquillamente inaugurare. Prezzi e materie prime che stanno sparigliando le carte sul tavolo di tutte le amministrazioni pubbliche della marca. L'ente provincia da mesi lo sta puntualmente segnalando al governo anche accanto alle categorie economiche. Sappiamo tutti che la bolla dell'aumento dei prezzi è scoppiata nel corso di quest'anno. In parte con oggettivi rincari delle materie prime, in parte con un po' di speculazione. Marcon, da sindaco di Castelfranco, porta l'esempio della sua città. Castelfranco ha intercettato 5 milioni di euro, uno da 3 milioni e mezzo per il restauro della barchessa degli strepiti, 950 mila euro per la strada di collegamento tra la casa di riposo e il centro della città, e il terzo per la riqualificazione della piazza di una frazione, di Salvatronda nello specifico. Presto si fa fare i conti anche qui. 5 milioni, se serve il 30% in più, serve un milione e mezzo per riuscire a portare a termine questa progettualità e realizzarla. Un milione e mezzo che il Comune non ha. Nel frattempo è stato pubblicato in gazzetto ufficiale il decreto legge 50 che all'articolo 26 prevede le modalità per compensare l'aumento dei prezzi dei materiali da costruzione negli appalti pubblici per il 2022, con una somma complessiva di 3 miliardi. Una norma che già da più parti viene definita complessa e di difficile applicazione. Una situazione fluttuante che non fa dormire sonni tranquilli a imprese e amministrazioni. È ufficiale, riaprirà domani alle 18.15 la piscina Le Bandie di Lovadina. Siamo nel territorio comunale di Ispresiano, piscina che nella tarda serata di martedì era stata investita dal maltempo con questi risultati, li vedete nelle immagini, il vento forte aveva infatti sollevato parte della copertura. Tempestivi i lavori di ripristino e messi in sicurezza che consentono quindi la riapertura in tempi record domani, lo ripeto, alle 18.15. In carica dal 2013, Sebastiano Favero è stato rieletto per un altro triennio con larga maggioranza all'Assemblea, presidente dell'Associazione Nazionale Alpini. Si tratta di una trevigiano doc. I delegati dell'ANA, l'Associazione Nazionale Alpini, riuniti a Piacenza per l'Assemblea annuale, hanno confermato per altri tre anni Sebastiano Favero alla guida dell'Associazione Nazionale. Favero, di Possagno, è figlio, fratello e nipote di Alpini, sottotenente durante il servizio di leva. Nel 1975 è stato anche comandante di compagnia a Tai di Cadore. Favero è stato rieletto per il quarto triennio con 373 voti su 480 votanti ed è presidente nazionale dell'Associazione Alpini da giugno del 2013. Nel Consiglio Nazionale è eletto anche il vicentino Enzo Paolo Simonelli. Buon lavoro quindi a Favero. Adesso ritorniamo a Treviso, dove è stata inaugurata in mattinata la riqualificazione del Sagrato della Chiesa nella quartiere Sacro Cuore. La benedizione dalla scalinata della Chiesa, poi l'applauso dei fedeli e dei gruppi parrocchiali presenti, infine il nastro tricolore tagliato dal professionista che ha donato il progetto al Comune. Al Sacro Cuore l'inaugurazione del Sagrato riqualificato e con esso l'ampia aria a parcheggio. Si confondeva un po' con un parcheggio questo piazzale, invece adesso c'è una bella distinzione, no? Sì, esattamente. Noi avevamo le macchine praticamente fin sotto la chiesa e questo è una mancanza di rispetto proprio verso il luogo sacro. In più, ecco, creando disagi notevoli durante le celebrazioni. Prima ancora del Sagrato abbiamo riorganizzato e riqualificato tutta l'area del parcheggio, delle corsie, della viabilità, eccetera. Vedere qua i bimbi che finalmente riescono a giocare non in mezzo alle macchine ma in un'area a loro anche dedicata è una cosa molto bella. Un intervento da 150 mila euro che si inserisce in una rivisitazione complessiva dell'area che ha permesso di salvare la zona verde del campo Pozzifiori, riqualificare via Dalmazia e via Leardi e adeguare illuminazione e sottoservizi. Grazie all'accordo con il Comune è parte importante nell'intervento la VUTA-ATS che al Sacro Cuore ha proprio la sua sede. Come è stato fatto in altri comuni, stiamo facendo Riegio Pio X, Farra di Soligo, anche a Televiso dove abbiamo la nostra sede. Abbiamo iniziato due anni fa con la riqualificazione di quello che era il piazzale antistante per realizzare i parcheggi al servizio degli utenti di ATS e della cittadinanza. Abbiamo proseguito con la riqualificazione di questo sagrato e la creazione di nuovi accessi e proseguiremo con la riqualificazione della sede. I quartieri trevigiani visti proprio dai bambini. Con il concorso AMA il tuo quartiere che a Treviso ha premiato una serie di elaborati di alunni delle scuole elementari che il Comune si impegna a realizzare. La fantasia dei bambini e la capacità, la laboriosità è inesauribile e noi cerchiamo sempre nei limiti delle nostre forze di accontentarli. Bambini fantasiosi ma anche concreti che chiedono di abbattere recinzioni, eliminare cancelli, aprire gli spazi non solo delle loro scuole ma dell'intero quartiere alla vita di comunità. La nona edizione dell'iniziativa AMA il tuo quartiere promossa dall'associazione Ascoltare per costruire in collaborazione con il Comune di Treviso è anche questo. Il concorso di disegno e scrittura ha prodotto elaborati premiati in questi giorni 500 gli alunni delle scuole primarie coinvolte. Molto importante realizzare questi progetti perché i bambini si sentono cittadini e con metalli è giusto dargli una valorizzazione e fargli comprendere che le loro proposte hanno poi un seguito e appunto vengono ascoltati. Ritorniamo a vivere il quartiere, il tema di quest'anno. È emerso un quadro molto interessante di quella che è la Treviso Nord quindi i quartieri di Santa Bona, San Paolo, Monigo, San Liberale che passano dalla valorizzazione di aree scolastiche per poi aree verdi piuttosto che le strade pubbliche, aree di gioco tutti interventi molto interessanti e particolari e ringrazio il Comune e l'assessore Zampese che cercherà di portarli avanti. Parliamo adesso di centri estivi con il Comune di Treviso che ha mantenuto invariate le rette e innalzato a 7.000 euro il reddito ISEE per la gratuità. La scuola sta per finire, quest'anno l'organizzazione dei centri estivi finito lo stato d'emergenza sarà più semplice. Cresce l'offerta del Comune di Treviso sia per le attività ricreative che per i camp sportivi con un incremento degli organizzatori che si sono iscritti all'albo. Siamo già usciti con l'albo antigestori, hanno aderito in 30 quindi 10 antigestori nuovi in più abbiamo un sacco di proposte, adesso sono usciti tra l'altro ieri anche la parte poi relativa al sostegno alle famiglie con i contributi e quindi io direi insomma che l'estate è già stata avviata. Grazie alla collaborazione con le associazioni l'offerta di attività è ampia e variegata sono state mantenute le stesse rette di iscrizione dell'anno scorso alzata la quota ISEE per la gratuità a 7.000 euro con importi a crescere fino ai 20.000 euro di ISEE. Abbiamo deciso di sostenere le famiglie, oltre ad avere anche allargato la platea perché abbiamo anche portato l'ISEE fino ai 7.000 euro quindi abbiamo anche ampliato una platea per coloro che quindi avranno diritto al centro estivo completamente gratuito per cui direi che insomma noi ce l'abbiamo messa tutta per stare al fianco dei bambini e delle famiglie. Rimaniamo a Treviso, nuova due giorni di attività nella Villa Margherita Inclusiva il progetto dell'Associazione Veneti schiacciati dalla crisi sabato e domenica dedicati al gioco, in particolare ai giochi di ruolo. Grandi e piccoli all'evento Treviso Play, ospitato nelle stanze e nel parco di Villa Manfrì Margherita è diventata inclusiva grazie al progetto dell'Associazione Veneti schiacciati dalla crisi guidata da Mirella Tuzzato protagonisti della Due Giorni i giochi, giochi da tavolo, giochi all'aperto ma soprattutto giochi di ruolo organizzati dall'Associazione Loggia degli Irrealisti. Negli ultimi anni si è riscoperto molto il gioco di ruolo che è sempre stato un gioco di nicchia ultimamente anche complice un po' la pandemia perché sono giochi che si possono fare anche tramite Skype o altri mezzi multimediali c'è stata una ripresa però nulla è bello diciamo come il trovarsi in compagnia perché oltre che giocare al tavolo si installano delle relazioni, delle amicizie ovviamente con tutto quello che ne consegue. Ma ci sono opportunità di svago e relazioni per tutti com'è nell'obiettivo di Villa Margherita Inclusiva? L'obiettivo è proprio di fare inclusione come vedete ci sono ragazze, ragazzi, famiglie, bambini questa è un'alternativa alla solito fine settimana è con fine settimana diverso giocando ma un gioco intelligente un gioco che fa crescere che fa capire anche chi sei ma soprattutto possono giocare i ragazzi con le famiglie, con i genitori possono giocare tutti. La Villa è il suo parco tenuti finalmente in ordine dai volontari di Mirella e dagli operatori di alternativa ambiente. Con un lavoro in mane un po' alla volta però ce la facciamo ce la faremo però devo ringraziarli perché veramente se vedete anche questo ordine merito loro e perciò grazie veramente. Di iniziative Villa Margherita ne vedrà molte altre in futuro inclusività significa anche far partecipare chi è in difficoltà economica. Noi abbiamo iniziato con l'ipoterapia poi abbiamo portato gli Alpa, Kailama sempre tutto gratuito forse questo è il mio problema che faccio troppo gratuito e allora qualcuno dà fastidio perché ormai si paga anche l'aria che si respira mettere a disposizione tutto gratuitamente forse qualcuno dice non va bene ma io continuerò per questa strada. Un polo per la formazione tecnologica aperta anche alle aziende del territorio l'istituto Max Planck di Lancenigo ha deciso di potenziare i propri laboratori il progetto è stato annunciato in occasione dell'evento conclusivo dell'esperienza First Lego League che ha visto il Planck Team volare a Houston per i mondiali della competizione di scienze robotica grazie anche alle sponsorizzazioni di numerose aziende del settore tecnologico della marca a prendere parte alla serata studenti del Planck e del vicino alberghiero Alberini rappresentanti delle amministrazioni locali e delle aziende che hanno sponsorizzato di volo oltreoceano di oltre 24 studenti e 3 docenti del Planck Team che si sono poi classificati decimi su 108 squadre della categoria robotica provenienti da tutto il mondo quindi una bella soddisfazione. Adesso andiamo in pubblicità fra poco.